Noi brasiliani da bambini tutti sanno che tutti i bambini piacciono il calcio e soprattutto lì in Brasile è una cosa che prima che un bambino cammina il padre la madre già regalano i palloni quindi siamo innamorati e poi io sono cresciuto ascoltando le storie che il re del calcio era un brasiliano e quindi avevo una voglia di conoscerlo di sapere chi era e quando sono andato al Santos che ho visto che lui era lì che ha fatto tutte quelle cose con la maglia del Santos e avevo quel sogno di indossare quella maglia numero 10 un giorno ci ho riuscito per tante partite quindi sì è stato un onore avere un riferimento nel calcio mondiale come come lui essendo brasiliano e giocare nella stessa squadra sua indossare quella maglia numero 10 ancora mi vengono i brividi perché lui come tutti sanno no è una leggenda siamo tutti tristi per quello che è accaduto però lui sarà sempre è la leggenda ho visto tutti i video possibili che che c'è chi ci sono suo e mi sono innamorato delle giocate in quel tempo quello che che faceva lui la velocità tutto quanto che faceva che pensava tanto in avanti e poi è un particolare per noi che abbiamo giocato al Santos perché ci sono tanti giocatori che hanno giocato con lui ex giocatori che lavoravano lì quando ero quando ero giovanile quindi ci raccontava le storie quello che faceva quindi abbiamo avuto degli insegnanti degli insegnanti perché noi chiedevamo no ma come era diverso come era giocare con lui e ci dicevano che era devastante era una cosa devastante che non si potevano credere che lui era era così forte forte perché quello che ci sono testemunio oculare no è certo quindi a noi faceva piacere sì mi ricordo il cielo delle malette a casa del numero 10 quella che io ho indossato io che ci sono delle delle corone dentro solo del numero 10 del zero quindi a me faceva tanto piacere perché tante volte lui era lì a guardarci nelle partite importante era lì allo stadio e indossavo io la maglia numero 10 quindi era una responsabilità non perché il migliore di tutti i tempi ci guardavano sono sicuro che lui guardava che stava indossando la sua maglia perché pensa che pressione cioè pensate che pressione e avevo in questo periodo 17 anni quindi per me era una motivazione e a volte quando vediamo tutti i giocatori e lui che ha indossato la maglia del brasile e chi hanno vinto è una responsabilità molto grande perché vediamo quando c'è le convocazioni tutti i giocatori disponibili giocatori che che giocano alto livello sempre e che dopo un anno vengono altri 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 quindi è una responsabilità molto grande ma è una gioia che non si può non si può mettere in parole no si è il numero 10 quando pensi è un giocatore che che inventa un giocatore che riesce a fare qualche cosa che nessuno ci aspetta no ai momenti come oggi c'è Luis Alberto e lo chiamano mago no perché lui inventa le cose che nessuno ci aspetta neanche a volte noi in campo perché lui vede tante cose in avanti riesce a fare delle cose che ingannano gli avversari quindi ancora c'è questo fascino per la maglia numero 10 e noi brasiliani siamo passi per questo numero in tutte le squadre brasiliane sempre i giocatori che indossano la maglia numero 10 devono fare sempre la differenza devono sempre fare qualcosa di diverso in Brasile siamo tanti quindi quando le cose non vanno bene le critiche non sono tante è un processo nazionale però io credo che oggi nel calcio è a meno come si può dire è più immediatico quindi in una partita si va male si vede subito no si si quindi non manca un po di pazienza perché i numeri suoi sono numeri incredibili la età sua quello che ha fatto quando ha iniziato quindi lui c'è tutti i numeri che che non si può contestare sicuramente quando sono tornato tutti mi chiedevano se vedevano il felipe di 2014 2015 io ho detto che ero più forte dicevano che non era possibile perché venivano da due anni che non giocavo però il calcio oggi è molto è molto fisico e quindi devono dobbiamo essere preparati mentalmente fisicamente e fare sempre le cose giuste in campo quindi quest'anno ho visto tante partite in cui sono stato molto concentrato tutto 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 la partita quindi quelle sono cose che 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 mi danno una fiducia e una consapevolezza che che possono fare ancora meglio ciao a tutti i tifosi che ci ascoltano voglio farvi gli auguri per la vostra famiglia per la vostra salute che dio vi benedica e che noi insieme con la lassio possiamo metterla ai primi posti dell'italia vogliamo lottare per voi e speriamo voi allo stadio per sostenersi come fate sempre